visita oggi il mio nuovo store online www.xuder.it tante magliette, felpe, prodotti stagionali e ad edizione limitata www.xuder.it mi raccomando e ovviamente codice creator xuderone e adesso video signori ho appena creato un deck con dentro 5 leggendarie e nella sfida royal moderno diciamo che te le puoi godere perché comunque sono tutte al 9 quindi in realtà vediamo cosa succede contro italo 11 dei god slayer ma che cazzo fai? what? non volevo prendere assolutamente il miner non volevo assolutamente prendere il miner ma sembra che sia funzionata la cosa attenzione potevi però loccarmi il fantasma potevi loccarmi il fantasma fa niente bocciatore dietro bello che local boiler bello che local boiler e la torre poi può andare anche sulla macchina volante lasciamolo andare piano 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 per adesso stiamo andando avanti con la fuorilegge poi sono tanto questa quattro la poison io gliela tirerei via sinceramente quella giù di miner giù di miner non viene non viene loccato non viene loccato e qua subirò i danni dalla macchina volante giochiamola di là intanto la princess così non fa i danni sulla mia torre 2100 va bene così subire i danni va bene va bene gli abbiamo tolto la fornace va bene ci sta ci sta in realtà frega cazzi di sta cosa proseguiamo 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 con calma con calma cinque leggendari in un deck è un po devastante come cosa spirito del fuego così proprio bocciatore va bene dai io ho ancora il drago elettrico lui non lo sa il mago elettrico avanti 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 non lo sa che c'è un mago elettrico easy è troppo è troppo god il mago elettrico in difesa avrei potuto veramente partire col miner una hit una hit nice arriva lì sulla torre due hits sulla torre ancora meglio obblighiamolo a tirare il tronco oh merda fantastico forza 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 poison sulla cimitero poison sulla cimitero no problem for us no problem for us cimitero totalmente counterata il miner sulla sinistra dai 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 69 69 la tower ci passa molto indietro come sempre bocciatore deve sprecare il tronco lui siamo dentro siamo dentro sbam fantasma libero fantasma libero miner di nuovo let's go la torre è andata 5 leggendarie ouch 5 leggendarie ouch ed è dentro anche la seconda princess lui non può fare più nulla una bella poison su entrambe le torri e andiamo a vincere la quinta partita della royal moderna lol piano piano not bad not bad non ho mai messo la guaritrice si prendono il barile per le furie easy non ho mai messo la guaritrice ai giorni della battaglia vediamo un pochettino se ci può fare una una leggera modifica effettivamente guaritrice mai giocata io io una carta che non ho mai giocato che è stata la guaritrice personalmente la sostituirei con un'altra carta che mi aggrada un sacco che è il battle ram la riete da battaglia vai vai per la sesta con royal moderno vai per la sesta con royal moderno ma questo natural nudist scosa andiamo apertura con minor easy si gioca sempre fantasma e oh cazzo non ho visto mica dietro il boscaiolo ma me l'ha nascosto fa gli scherzi ma questo qua stava facendo gli scherzi stava facendo ok ok ha fatto malissimo ha fatto questo attacco non ho mica visto dietro il boscaiolo come ha fatto a giocare tutti due vabbè bravo 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 bella giocata bella giocata quella mi devasta quella mi devasta lano ecco la vita stavano vai 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 salvo un po la tower oddio mi ha lasciato andare il miner sotto torre ok 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 mi ha lasciato andare il miner sotto torre porta la centrale porta la centrale fantasmone 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 vai vai via la princess via la princess bam ok il problema è quel è qualcosa va bene perdo la torre ci sto va bene perdo la torre va bene va bene va bene perdiamo la torre inutile andare a counterare perdiamo la torre d'accordo d'accordo fuorilegge dover bloccarla fuorilegge esatto boom benissimo così miner dietro vai col miner vai col miner vai col miner peccato che l'ha fatto in rincorsa 8 e 47 vai 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 sono pronto usare il batterama adesso adesso andiamo con l'attacco vero adesso andiamo con l'attacco vero sto sbagliando un po' di cose lui qui forza a 9 partiamo con l'attacco dentro col battle ram dentro col battle ram vai 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 con l'onde vasto qual è un devasto sulla tower let's go let's go let's go let's go minchia se fa male tieni 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 easy mi è piaciuto il secondo attacco merda let's go beh devo dire che l'inserimento del battle ram in questo deck è stato notevole notevole direi che è stato notevole raga let's go